Oggi a Trigore è il compagnia di Massimo Tarantino del preside dottor Buonincontro, perché? Perché è importante che i ragazzi dell'Accademia vadano bene anche a scuola, questo l'abbiamo detto tante volte, è importante coniugare molti aspetti e oggi questi ragazzi che hanno il massimo dei voti incontrano la squadra. Sì, questa è una delle nostre prerogative della nostra scuola calcio, abbiamo deciso all'inizio di questa bellissima avventura di dare un'attenzione particolare anche a quei bambini che hanno degli ottimi rendimenti scolastici e in una di queste occasioni oggi li portiamo a Trigore a incontrare la squadra dove riceveranno un gadget firmato dai loro benemini e quindi questo è un po' il nostro percorso, una di queste attività che abbiamo sviluppato all'interno della nostra scuola calcio. Il preside è severo? Il preside è abbastanza severo, sì, come tutti i presidi devono far rigare dritto i nostri ragazzi ma devo dire che noi siamo abbastanza fortunati perché il nostro contesto a scuola ci aiuta molto, funziona bene, siamo contenti, sono belle persone e oggi abbiamo la fortuna di avere tantissimi responsabili ma non solo che seguono l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto umano dei ragazzi. Preside Buon Incontro, è tutto così sicuramente, benvenuto però è un giusto premio per questi ragazzi che pensano anche alla scuola. Sì, nella mia lunga attività calcista ho sempre pensato che i piedi li muovesse il cervello e non il contrario, per cui più vanno bene a scuola è meglio è. Noi diciamo sempre un'equazione matematica, chi va bene a scuola diventa più intelligente e chi è più intelligente gioca meglio a pallone, per cui loro gradiscono questa equazione matematica. Se consideri che 40 su 350, per noi è un'altissima percentuale, con tutti i 10 a scuola, non è da tutti, non è da tutte le società. Questo per capire che comunque bisogna curare davvero tutto. Questi sono 40 bambini che hanno tutti i 10 a scuola, in ogni materia, quindi non c'è una materia dove sono sotto i 10, quindi in maniera straordinaria vengono in qualche maniera premiati. Però oltre a questi ragazzi che ci sono qui ci dispiace perché qualcuno non è entrato in questa elite dei 40 bambini ma che hanno voti altissimi, qualcuno magari non è venuto solo perché ha qualche 9, per cui è un po' discriminante, ci dispiace, però in realtà era un po' questo inizialmente il target di premiare chi avesse 10 in pagella, ma siamo vicini anche a tutti gli altri che in qualche maniera ci sono arrivati vicini ma non ci sono entrati, ma li aspettiamo. Grazie a tutti.